Assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine e paura per una nuova possibile ondata di contagi. Questa mattina le telecamere di TV City sono state ad Ercolano, dove i cittadini hanno commentato gli ultimi dati della Regione Campania. Situazione Covid-19, aumentano i contagi nella Regione Campania, ha paura? Altro che se ho paura, lo dimostro la mascherina che sto portando. Purtroppo non è solo la Campania, non solo il Napoli, il Napoletano, ma la Campania è intera. Io vengo da Salerno e siamo su peggiori stesse condizioni. La paura ci sta. Crede che la sanità campana sia all'altezza di reggere un'eventuale seconda ondata? Avete, abbiamo la fortuna di avere un buon Presidente. Lei fa un appello al buon senso dei cittadini? Certamente, ma anche alle forze dell'ordine che a volte trascurano. Se vedo vigili che se ne fregano, carabinieri che passano con le macchine e non si fermano davanti alle gente che non hanno le mascherine, è un baceno. Situazione Covid-19, in Campania aumentano i contagi, lei ha paura? Io no, non ho paura. E quindi crede che la sanità campana sia all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? Sì, sì, penso di sì. Dobbiamo fare quello che dice il Governo. Loro ci dirigono e noi dobbiamo eseguire. Lei ha fiducia nell'operato del Governo e in particolare nell'operato della Regione Campania? Sì, sia quello di De Luca, sia quello del Premier Conte. Abbiamo tanta paura. Crede nell'operato del Governo nel contenimento del contagio? No, non credo. E la sanità campana sarebbe all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? No. Io a dire la verità, sì. Sì, per i bambini, per i miei nipoti, per i miei figli, per l'altra gente, per tutti. Perché tutti sanno, politici, medici, tutti, ma nessuno non ha mai detto la verità. Crede che la sanità campana sia all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? Questo sì, questo sì. Ci credo molto. Quindi crede nell'operato del Governatore De Luca? Sì, perché ha saputo gestire la prima e penso che sia capace anche di gestire la seconda. I contagi aumentano giorno per giorno. C'è porto, c'è quando sono abilessi 50-60, c'è fino ad un istituto che sono tutti contagiati, sia i medici che le persone. E questo è, in Ercolano, pure lo stesso ce ne sono tanti. Crede che la sanità campana sia all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? No, no, non c'è, non c'è perché la regione campana qua a livello sanitario siamo proprio rovinati, ma rovinati al 100% qua. Non è come il nord, ci sono regioni del nord che la sanità è migliore. Aumentano i contagi. Lei ha paura? Molto. Devi pensare che mia figlia ha rimandato un matrimonio tre volte e adesso siamo ancora, che giovedì si deve sposare e non si sa. Perché il Presidente ha detto che entro quattro giorni se va avanti così chiude tutto. E noi che dobbiamo fare? E lei teme un secondo lockdown? Sì. Temo perché in questa estate è stata tante di quelle cose che nessuno si è stato attento. Tutti hanno fatto le loro cose, tutti se ne sono andati per i fatti loro. Ed ecco qua, ma siamo più rovinati di prima. Eravamo gli unici in campagna qua, proprio a Ercolano, che non tenevamo, in qualche caso, ma stavamo tranquilli. Adesso siamo diventati i primi, i primi in tutta l'Italia. E lei crede che la sanità campana e quella nazionale sia all'altezza di sopperire ad un'eventuale seconda ondata? Io sinceramente dico di no. Dico di no perché non c'è nessun controllo fino adesso. Lo stiamo facendo noi e lo stiamo dicendo noi, però vai a Napoli e non ti controlla nessuno. Torni da fuori e nessuno ti fa il tambolo. Tutte queste cose non sono controllate, non è vero.